Virdis, pronto al cross, parte il cross al centro, Hattelay e grande gol! E questa volta l'inglese non ha perdonato. Azione maiuscola da parte del Milan, già prima Hattelay aveva impensato il venghi. Intanto rivediamo, intanto qui tra valle si è stato spezzato, Antobelli ha perso palla su Beresi. Rapido, eccolo il cross di Virdis, guardate il salto di Hattelay. Due piani sopra con l'ovanti, gol imparabile, Milan in vantaggio. 2-1 per i rossoneri, mentre vedete la faccia molto preoccupata, Ilario Castagnere. Ed ecco questo primo piano di Attila Hattelay. Hattelay, quinto gol in questo campionato. 2-1 per il Milan.